A maggio abbiamo costituito questo nuovo circolo in Caramagna e ne sentivamo proprio il bisogno perché non avevamo nessun luogo dove potevamo incontrarci, farci una partita a carte, stare un po' a discutere del più e del meno. Oggi festeggiamo il primo Natale e siamo contenti perché eravamo numerosi e abbiamo avuto la partecipazione del sindaco Strescino e dell'assessore ai servizi sociali Ranise. Speriamo che questo circolo continui anche nel 2012 con la buona volontà di tutti perché qua si litiga spesso per le carte, sapete che le carte sono un gioco che porta a litigare uno con l'altro, però alla fine siamo di nuovo tutti amici. Abbiamo anche iniziato il tesseramento per il nuovo anno e invitiamo tutti i soci. La tessera non è una cifra esagerata, è fissata in 10 euro per tutto l'anno 2012. In più ogni giorno i soci che partecipano e che frequentano il centro sono invitati a versare 2 euro al mese che ci servono per pagare la corrente e le spese per acquistare qualcosa che è necessario. Il circolo al giorno d'oggi è già dotato di tutto, abbiamo la televisione, abbiamo le stufe per il riscaldamento, abbiamo i tavolini e le sedie dove possiamo stare a giocare, a discutere, a divertirci. Quindi siamo tutti contenti e speriamo che continui questo circolo nella sua attività, anche per il futuro. Vieni che è l'ora, vieni che è l'ora, quando la luna cambia il volo, vieni che è l'ora di fare l'amore. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni ti voglio sapere, ogni ti voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni ti voglio sapere. Vieni che viviamo! Grazie a tutti.